Qualcuno mi dice com'è andata? Paolo, qualcuno mi dice com'è andata? Niente, tanto non mi importa niente, l'importante non lo so. A te chiedevo com'è andata? No, chiedevo a voi com'è andata? Non si sa. Vabbè, secondo me era orribile, da quel che mi riguarda ero terrorizzato, timido, imbranato, tutto, però ho raggiunto lo scopo della mia vita. L'ho detto, uno era conoscere il capitano Kirk dell'Enterprise che ho conosciuto e naturalmente l'altro era Paul McCartney, insomma uno mi sembrava possibile e l'altro no. Adesso che sono tutte e due possibili non so più che cosa fare e quindi sto qui e penso. Io non lo so se questa intervista andrà in onda, compreso quello che sto dicendo adesso, però sai che ti dico, a me non importa niente. Sono talmente contento così che se non la mandate vi ho fregato dei soldi, pazienza, non mi importa niente. Peggio per voi, tanto a lui la vita non cambia, a me sì, comunque. Ciao, ciao. Ah, siamo finiti. Alguien ha bisogno di un'altra parte. Grazie molto. Grazie a te, sono Fabio. Ciao, assolutamente. Ciao, assolutamente. Ciao, assolutamente. Un secondo ti guardo. Io lo conoscevo alla terza e ora lo conosco alla prima e sono molto orgoglioso di questo. Io conosco a Firenze un bravissimo pianista, un pianista che conosce tua cognata, la sorella di Linda. Laura che conosce te, quindi io ti conoscevo alla terza, in tre passaggi, adesso ti conosco alla prima e conosco la regina alla seconda. Perché tu conosci la regina. Perché tu conosci la regina. Perché tu conosci la regina. E quindi sono già, il mondo ci si conosce anche così. Il mondo ci si conosce anche così. That is right. That is right, yes. Is it right? And if you shake my hand, you have almost shaken the queen. Esatto, esatto. La proprietà transitiva, esatto. 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 Esatto, la proprietà transitiva. E invece non posso soffrire di nulla di questo. So I can't offer you anything like this. Perché la regina non l'ho mai conosciuto. Because I've never met the queen. Non so chi conosce. Have you met the Italian football team? Yeah. Ha conosciuto però le squadre italiane. Sì, certo. Well that's good, I have shaken their hand. Conosci adesso che giocano nel Chelsea, Vialli, Zola. Yeah, yeah, there's a lot of Italian players over here now. So you know all these guys, you know Vialli, yeah, yeah. Laszlo, you know all the boys. Yeah. Ho scambiato la regina per Vialli. Ho scambiato la regina per gli altri. Eh, ok. È già una cosa, è già una cosa. Senti, una cosa così, iniziamo a parlare un po' liberamente. Io quando voglio stare bene, mi metto a casa e ascolto, non so, ascolto la tua canzone. Ascolto Yesterday, ascolto la canzone qualunque. Ecco, a lui capita ogni tanto di dire adesso vado di là e ascolto Paul McCartney che canta e si mette lui al pianoforte. Perché lui è l'unico che può ascoltare se stesso. E' già un po' libero. E' già un po' libero. E' già un po' libero. Però lui è anche l'unico che può andare appunto a casa sua e dire adesso vado di là e mi faccio dedicare una canzone da Paul McCartney ed è lui che se la canta da solo. Sei Paul McCartney, è una grande cosa. Sulla tua storia hanno scritto di tutto, insomma è stato detto di tutto, è difficile aggiungere qualcosa che non sia stato detto. E ho paura che ogni domanda ti possa dare quasi fastidio come diciamo guarda te che arriva questo qui dall'Italia che non conosco e mi fa delle domande a cui magari non ho neanche voglia di rispondere. E quindi la domanda è questa. C'è un argomento che in questo momento lo sta appassionando? C'è un argomento che in questo momento. C'è un argomento che in questo momento di farlo non ci voglia di farlo quando si liscia. C'è un argomento che in questo momento la domanda si fidano. Ma cosa interessi me è che con questo nel mondo hanno una crescita di popolazione. E quindi con il lavoro è un argomento che correttante. E quindi con le vegetarino che si può fredadino che vediamo 20 volte la quantità di vivente. Quindi i vogliono una varietà di vivente per la prossima che sta realizzata. economica idea for the world as well as being an interesting way to eat come credi che facciamo un grande discorso per un attimo poi torniamo alle cose piccole facciamo una conversazione libera come credi che saranno ricordati che saremmo ricordati noi di questo secolo? yeah that's a big question that's a very big question how will we remember for the Beatles? come ne saremmo ricordati per i Beatles? può essere hopefully we will be remembered as the century that realized that we had to make some changes from our old habits because you know throughout our history throughout Italian history throughout English history everyone's history there's violence war war everyone killing each other and maybe maybe this generation is starting to learn that it's impossible and maybe we'll get one world ok ricordo che sto parlando con Paul McCartney e lo dico per il mio cuore anche perché anche perché si può fare a meno di tante cose no? al mondo però effettivamente se al mondo non ci fossero state le canzoni dei Beatles mancherebbe davvero una grossa parte ma quantitativamente oltre che qualitativamente quante volte accendendo la radio c'è una canzone anche adesso dei Beatles o di Paul adesso e poi è una cosa bella per me perché normalmente hai un lavoro e se sei molto fortunato è un buon lavoro e ti fai un euro ma con le Beatles era più che un lavoro era era un messaggio all'universo a través della musica quindi sono molto orgoglioso che il nostro messaggio era amore ti dà fastidio quando gli altri cantano la tua canzone non i professionisti non i professionisti non i professionisti no è buono mi piace no a me da fastidio che le è la massacra non le canto neanche io perché oh yeah ma come è possibile che ogni cosa che fa Paul dai Beatles a Fleming Pie adesso ha le fotografie sue alle sue interviste è sempre tutto l'aggettivo è uno solo perfetto torta fiammiggente torta fiammiggente fiammiggente torta fiammiggente torta fiammiggente torta fiammiggente in Fleming Pie tu dici nell'introduzione dici che ti sei divertito che è un gioco questo disco però c'è anche tanta malinconia yeah sure well I can enjoy that too I discovered when I was quite young when I was starting off that I I realized people like sad songs songs that touch their heart le canzoni triste it's one of the special things about music it's it's very special stuff you can look at a beautiful painting and it touches you you can see you know a great football match it touches you your passion but there's something about music that is very special it goes right inside it goes in here it goes in here ha detto che la gente preferisce le canzoni che toccano il cuore invece lui quale tipo di canzone preferisce when I was when I was young I liked my father's music when ero piccolo mi piaceva la musica di mio padre and it was mainly American music he liked like Stardust you know Stardust the old the old songs the beautiful melodies you know and then I liked then I got into rock and roll spirit of rock and roll which was a youthful spirit you know like spirito giovanile very special and I still like probably I like best beautiful melodies bella melodia quando gli faccio una domanda scemissima non ask you a very stupid question delle tue invece canzoni quale è quella che ti piace di più of your own songs which is the one that you like well it's many people ask that e infatti permesso che scusi this that's why I asked I know sorry no I I think maybe my favorite is Here, There and Everywhere it's a nice song but Here, There and Everywhere poi cantiamo un pezzo fantastica la più bella in assoluto è una delle più belle yeah it's difficult to choose you know I always say to people it's like trying to choose a favorite of your children però visto che l'ha detto perché proprio Here, There and Everywhere Here, There and Everywhere it's complete it has I think a good melody and it's good words I read that yeah yeah it's yeah yeah I was driving I was the chauffeur yeah yeah you know sometimes it's good to do some things quickly you know if somebody gave me six months to write a song I'd probably write it on the last day questo mi consola molto a me personalmente perché io ho detto se nella vita mai mi capiterà di intervistare Paul McCartney sei mesi prima voglio preparare l'intervista invece me l'hanno detto l'altro ieri però vorrei che sapesse una cosa per fargli capire il mio amore proprio che ho deciso un anno fa di imparare l'inglese per poter incontrare lui solo che l'incontro è avvenuto prima delle mie lezioni del mio corso qui adesso ogni anno ti telefono e ti dico a che punto lesson one lesson two I give you a lesson Fabio infatti magari stupendo say after me say after me say after me how are you Paul how are you Paul say my name is Fabio my name is Fabio and in Italy the book is on the table this is good this is good already in English very good my name is Fabio how are you now how do I say that come ti chiami bravissimo mi chiamo Paolo mi chiamo Paolo fantastico nei libri nei libri di scuola nei libri di scuola italiani quando si parla inglese c'è un'unica frase la prima frase the book is on the table oh the book is on the table yeah voi non li tenete mai sugli scaffali on the shelf no it's always on the table those books are crazy the old ones are really crazy e poi ce n'è un'altra ce n'è un'altra che è tipica che è allora il libro di Paul è sul tavolo di Fabio e la penna di Fabio è sul tavolo di Paul un disordine terribile ma suitcase è on the platform è anche quello si stuff you never need you never need ma infatti they should have you know how much is this hotel when me and John went to France when he was 21 we went to France and he took French in school but he couldn't remember any and I didn't take any I just took Spanish and German so I didn't know so we used to go to all the people in Paris who said have you a hotel for la nuit we ended up in Montmartre asking prostitutes have you an hotel for la nuit they didn't of course they didn't no no they didn't have one no 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 my book is on your table yeah my book is on your table where is my record is in your hand your book is on my table no it's on your table Fabio where is my pen just a moment it's on the table your pen is on my book it's true my book your pen offer my book please ok that's your pen this my book ok my book tutto torna come nei libri di grammatica tutto it's happening finally finalmente succede Senti Fleming Fleming Pai è anche un disco molto quotidiano no no sì sono dei racconti anche molto quotidiani lui che fa in barca oh yeah yeah in beautiful night there's some boating stuff oh yeah in heaven on a sunday too yeah I like boating lui che cosa fa nella sua quotidianità sometimes I work sometimes I go to work you know maybe do this or maybe make a record or whatever many many things or if I have a day off I like to horse ride like in documentaries that's something Linda taught me she's always been a very good horse rider she taught me how to do it when she was 15 she rode in Madison Square Garden New York not very fantastic not very yeah 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 he's good he's good he plays on he's just on his way to America he's one of his friends getting married one of my kids friends but he plays on heaven on a Sunday and it's beautiful you know because we play at home I don't want to push him into show business you know because it's difficult you know you know there's two sides but he he's good you know so I just said to him would you like to play on this one song you know I'll play a little and then you play a little you know I played with James McCartney he's my hero yeah she's the head designer for Chloe the fashion firm and she's some people have said she's too young she's 25 it's a big job but I say the Beatles had made Sgt. Pepper when I was 25 67 Orson Wells had made Citizen Kane soon coming up yes thank you very much grazie molti grazie tra pochissimo si è il tuo compleanno oltre a Fleming Paye c'è anche un filmato un film che hai fatto tu what what happened was you know normally a big crew to make a film you know and we wanted it to be intimate so we said to the director I said bring one cameraman no sound no sound just the sound off the camera the one camera and you just come along yourself so the director and the cameraman that was all it was probably against all the union rules no no know like i say for me i always feel ordinary there are two paul mccartneys the one inside me is the one i always was when i was a little kid in school that's that's still who i am and then there's a very famous one and he is the one i become when i go on stage but he's different it's it's like he's different you know from me i don't i can separate him so if i go for a walk in the street i just forget i'm famous and you know people will say to me oh you can't go for a walk you can't get in a taxi i get in the taxi talk to the taxi driver pretty soon with like old friends you know i met in in New York i met a i saw a taxi i got in a taxi in New so he's really and he's looking in the mirror he's looking at him he said hey you Paul you Paul Beatle you know so yeah 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 sure sure he said wow man this is great you know look at the road look at the road come on so we started talking anyway he said to me he said let me ask you one question he said he looking in the mirror at me said how does it feel to have that money I said pretty good he goes pretty good hey hey pretty good yeah pretty good pretty good to watch sport football athletics Linford Christie sport yeah American comedy comedy shows like cheers cheers and Bill Cosby those kind because in italia yeah in italia c'era George Mildred inglese George Mildred si brilliant brilliant show yeah I watch that if they have a good music show I like to watch it I watch most things ma tu George Mildred l'hai mai visto una volta George Mildred yeah allora io e McCartney abbiamo visto la stessa cosa and met the queen ecco oggi è stata una grande giornata grande giornata e in sport hai detto calcio perché squadra fa il tifo well it's a difficult question this because in Liverpool we've got two teams but my father was born in Everton so my family team is Everton but they haven't been doing so well so I support Liverpool as well I claim a special privilege to be allowed to support them both she's not really allowed but in Liverpool in Everton good teams adesso digli di rispondere di sì alla domanda che sto per fargli and now you're asked to answer yes to this question caro Paul tu conosci la Sampdoria dear Paul do you know Sampdoria yes ok si si everybody knows Sampdoria ah vedi la conosce che è la mia my team is it your team eh si ah ok vabbè quindi sono orgoglioso di questo possiamo dire che sei un po' Sampdoria this is my favorite italian of course ha giocato David Platt in Platt ha giocato nel Sampdoria è stato capitano della nazionale inglese eh quindi ragazzi questo è già questo è una cosa guarda io volevo finire con due cose uno se non vuole dire qualcos'altro lui prima intanto se ho dimenticato qualcosa no I'm ok just hey arrivederci italianos ti aggiorno io ti aggiornerò sulle mie lezioni d'inglese yeah next time we meet I want perfect English ci proverò I want ci proverò the suitcase is on the book ok e io domando se con la penna di Paul può fare un autografo sul libro di Fabio si sui due libri di Fabio e basta si e basta basta Fabio e basta e basta Oscar Narrative sei tu eh si tu si per amiglia ministrate si si to Fabio Fabio F-A-B-I-U ok to B-O this book io questo volevo fare tutta l'intervista è stata fatta solo per questo this book is for your table oh fantastico the book is on the table is special Fabio and this one è il ricordo di questo nostro incontro yeah canto anch'io così dico che ho cantato con te no 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 i don't think it's a good team va bene i think it's a i think we can do better va bene e chi dei due è chiaro chi deve migliorare va bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.